Il Movimento 5 Stelle, che come è noto sto facendo questa trionfale marcia, come direbbe qualche commentatore, questa trionfale marcia su Roma, in tre anni hanno preso tre capoluoghi di provincia, mancano 105 anni e avranno in mano l'Italia senza alcun problema, quindi basta avere un po' di pazienza e toccherà a loro, però alla fine va bene tutto.